Ciao a tutti, sono Alfredo Esposito di Patamoo. Patamoo è una piattaforma online che si occupa della tutela dal plagio e del diritto d'autore e si rivolge a musicisti, scrittori, sceneggiatori, creativi di ogni sorta che hanno interesse a tutelare la propria opera in maniera semplice, veloce ed efficace. Abbiamo da poco lanciato anche un innovativo, un rivoluzionario servizio che è Patamoo Live che permette di riscuotere in maniera diretta ed indipendente le royalties derivanti dai concerti senza l'interminazione della CIA. Di tutto questo e di tante altre cose sarò felice di parlarvi a Lavicarocchi il 28 e il 29 del 30 luglio a Via Grande, in provincia di Catania, al Parco Aniante. Quindi sarò davvero tanto contento di partecipare al festival, di far conoscere la realtà di Patamoo. Tengo particolarmente a lanciare un saluto a tutti quanti, a fare un bocca al lupo alle bande partecipanti. Ci vediamo quindi a Catania, a Via Grande, in provincia di Catania e un saluto a voi, un saluto a Lavicarocchi, patamoo.com Non dimenticate di cliccare sul sito, dare un occhio e ci vediamo a Catania.